bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su mafia 2 siamo quasi in chiusura secondo me perché mi ricordo bene o male cosa mi avevate detto sulle ore totali di gioco e ci stiamo abbastanza avvicinando secondo me siamo lì dobbiamo soltanto capire come si evolverà la storia capitolo 11 un nostro amico interessante interessante ragazzi non vedo l'ora di continuare ah sì il campanello che cazzo è eravamo rimasti al campanello ma ragazzi la cosa più importante era che marty aveva fatto una brutta fine era veramente giù di morale joe ehi è lui ma che what vabbè era veramente giù di morale joe e quindi ha fatto dei casini al bar è successo di tutto ragazzi davvero però ora siamo qui e vediamo di fare sicuramente un bel lavoro un bel lavoro non so assolutamente quale mettere proviamo questa così tranquillone e evito è tanto che non ci si vede c'è un bel pezzo che vuoi eri un drink prendiamo la mia macchina c'è qualcosa di strano qua ragazzi però andiamoci beh immagino saprai che clemente è morto come tutti gli altri senti so che falcone c'entra in qualche modo e ho paura che voglia eliminare anche quello che rimane della famiglia e per chi dovrebbe interessarmi beh sì senti sul fatto che te ne sei andato mi dispiace per quello che ti ha fatto clemente ha avuto quello che si meritava giusto a me non me ne frega niente di quel vecchio bastardo in effetti posso tranquillamente lavorare per falcone stai dicendo che vuoi unirti a noi si è dato che lavori per lui ho pensato che forse potevi mettere una buona parola per me ma sicuro io e io garantiremo per te grazie vito ti devo un favore ma infatti lui era dalla parte cioè come che sta succedendo prima o dopo che la metà di quelli che conosco è morta quella storia all'hotel immagino che tu non ne sappia niente vero non so di cosa stai parlando strano perché hanno ammazzato un amico di gio nel parcheggio quel giorno quindi immaginavo che centraste voi due amico di gio di chi parli sai quella minchia di ragazzino che veniva sempre con gio da freddi come si chiamava mickey mikey come minchia si chiamava vuoi dire martin sì sì è lui ha una voce uguale a quella minchiona di minni sì ne ho sentito parlare quindi sei sicuro di non essere stato l'acqua il giorno sei sicuro mettiamola così gioia io ci stavamo occupando di una cosa per il nostro capo quel giorno è tutto quel che posso dire sai cosa comunque sia non importa ma fammi un favore ti va sì sicuro la prossima volta usa qualcosa di meglio l'idioto ci ha tamponati lo porto a fresco il nome senti possiamo evitare ricevuto anzi non perdiamo non preoccuparti avete fatto quello che dovevate ora io mentre ascoltavo i dialoghi il tipo di lavoro adatto a te a dire la verità questo è ciò che sono ed è ciò che so fare già e suppongo che sia molto più redditizio fare il fottuto autista di taxi stavo pensando di lasciare la città dopo la parola per andare e a fare che ecco perché sono venuto da te così ero la tua ultima spiaggia grazie ma tanto per sapere come mai sei venuto da me e non da joe beh insomma joe è un tipo apposto ma non è esattamente la persona a cui affiderei il culo mi capisci sì beh non posso certo darti tolto scusate sto cercando di non far casino ma è stato tutto epico mentre loro parlavano il successo di tutto e loro con una non scala guardate la macchina scusi era l'ultimo l'ultima botta proprio bella la tua macchina perché va l'arma e scemo andiamo ragazzi già siamo partiti benissimo ehi ciao vito hai quei soldi per me mantengo sempre la parola ecco qui a spendere tutto in una volta grazie dov'è giù era qui prima ma poi sarà andato pareva incazzato ultimamente pare sempre incazzato come dargli torto senti devo parlarti di una cosa cosa è importante da fare convincer momento vuole attaccarci non sappiamo come e perché devo pensare a questa cosa beh allora dovresti ascoltarmi va bene dimmi ma fa in fretta mi ha chiamato uno che lavorava per clemente è preoccupato non sa se daremo la caccia al resto degli uomini di clemente beh non è per quanto lo so il capo non è in mente nulla in questo momento a meno che non facciano qualche stonzata ok beh il tipo mi ha chiesto anche se può lavorare per noi sì e chi un amico tuo per caso ho fatto qualche lavoro con lui per clemente ci sa fare ok digli di passare veramente adesso lui è già qui davvero va bene vanno a prendere ed è di lui eri tomasino ed è di scarpa piacere signor scarpa non mi chiamare signor scarpa gli amici mi chiamano ed è di siediti ed è re allora vedo mi ha detto che vorresti unirti a noi sì sono senza lavoro e quello che è successo è acqua passata bel modo di pensare prima dimmi una cosa eri clemente vinci progettavano qualcosa contro la nostra famiglia ok di solito tengo il naso fuori da ste cose ma una volta ero con luca gurino da leo galante luca continuava a dire che falcone era coinvolto in certi affari sporchi e che si doveva fare qualcosa per sistemarlo penso volesse mettere vinci contro di voi pezzo di cornuto scommetto che parlava di gioca proprio mentre la spacciava lui lo sa che vince contrario a quella roba probabilmente è riuscito a fregare vecchio è per questo che vuole muoversi contro di noi dobbiamo colpire per primi ancora se non ci muoviamo noi lo farà frank prima dobbiamo liberarci di galante senza di noi frank è fottuto volevo che ne restassi fuori ma non ho nessun altro che possa fare un lavoro come questo ora secondo me questa può essere l'occasione perfetta per mettere alla prova eri che ne dici te la senti se il lavoro fatto sarò dei vostri sicuro esatto occupate di leo e tu che mi dici vito se vai con eri per vedere che tutto fila liscio mi fai un grosso favore non è che devi ucciderlo tu basta che vai lì aspetti che finisca e poi torni ma se non ti sembra giusto posso sempre chiedere a qualcun altro che ne dici mi spiace enti non posso farlo leo è stato come un padre per me in galera se capisco mi sa che te ne dovrai occupare da solo puoi prendere qualcuno se vuoi ma dobbiamo fare in modo che nessuno sospetti di noi leo vive ai book capito non preoccuparti sarà fatto oggi ok meglio se ti muovi allora ci vediamo ed non è bella questa cosa però ragazzi non mi va questa cosa ragazzi c'è leo no avverti leo o la possibilità o la possibilità di fermare questa cosa ho sparato a tutti porca miseria mi avete rotto le balle via dobbiamo fare in frettissima la fretta è una brutta consigliera in questo caso ragazzi ma è possibile speriamo che la macchina sia veloce possibile veicolo rubato no porca miseria ha rotto le balle tra gustarello riprova missione si ok ragazzi riproviamoci avvertiamo leo abbiamo questa possibilità d'oro tentiamola ok questa volta per fare prima tento la rottura del finestrino perché tanto a no sono uno stupido perfetto dai in fretta senza errori vai dai 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 ce la possiamo fare siamo ancora in tempo per tutto vai bello siamo ancora in tempo ragazzi dai il timer è buono arriveremo a pelo ma il timer è buono dai le ruote stanno si sono bruciate per questa frenata non è lontanissimo eh però il timer è molto veloce questo è un problema questo è un problema ma pulirla sta macchina no mi faceva schifo vedo guardalo con che aggressività una ce n'era e una ho preso perfetto da che andiamo l'aggressività di un omino di un pilota stavolta col cacchio e scendi però leo leo ci sei come minchia sei entrato fuori di qui o ti infilo il sono io vito 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 e tu che minchia ci fai qui leo non c'è tempo per parlare devi andare in fretta vogliono farti fuori cosa viene di sopra vito ho freddo ai piedi vuoi bere qualcosa se voglio da bere ma che cazzo hai nella testa allora raccontami falcone ti vuole morto sta già arrivando qualcuno devi andare che e perché mi vuole morto ho sentito che vinci sta pensando di attaccarlo perché clemente ha mentito ha detto che faceva affari con la droga mentito vito carlo falcone fa affari con la droga lo sanno tutti clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e falcone se n'è liberato ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui e tu come minchia lo sai ho le mie fonti e tu perché sei qui perché ma te stai incoglionendo perché vogliono ucciderti parla morti dio smettile di parlare vestiti e andiamoci liberiamoci di quelli che carlo ha mandato a uccidermi siamo in vantaggio no non sanno che li stiamo aspettando non posso lo conosco in realtà sono quello che li ha trovati cosa hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarmi no non proprio senti non ho tempo di spiegare sarà qui da un momento all'altro ok aspetta qui mi vesto troppo tardi sono qui merda con la macchina che nascondiamoci prima che venga su con la macchina che gli ho sfasciato io era tutta sfasciata e dove ci dovremmo nascondere scappa con leo non farti vedere da henry perfetto potremmo scendere nel cortile da retro ma ci serve qualcosa per calarci ragazzo prendite dell'enzuola dalla lavanderia e dove caspita è la lavanderia dove è la lavanderia mi scusi ma la lavanderia che ci fai tu qui va bene tranquillo henry metti via la pistola e manda via i ragazzi ti spiegherò tutto ragazzi aspettatemi fuori se non esco tra qualche minuto venite a cercarmi sedetevi era tutto calcolato ma che sta succedendo qui henry leo è un amico mio in prigione mi ha praticamente salvato la vita e mi ha accolto in famiglia non sapevo che eddie voleva mettere una taglia su di lui dovevo avvisarlo sì ho capito ma io non posso mandare tutto a puttane se lascio andare leo falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere edizione henry sono tuo amico io per te lo farei e lo sai questo non ha a che fare con l'amicizia vito sono affari e se faccio cazzate sono finito non posso lasciarlo andare ho accettato il lavoro e devo finirlo se non vuoi guardare puoi andare via e non preoccuparti non dirò niente a nessuno ascolta leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché falcone vende droga sta violando le regole vuole far fuori quelli che lo sanno e allora? gli unici che non infrangono quelle regole sono frank vinci e leo qui e non sono loro quelli che mi pagano vito grazie di tutto ma ora lasciaci ho avuto una vita lunga e bella non ha alcun senso rischiare il collo per regalare un vecchio qualche anno in più no leo ci deve essere un altro modo vito vai mi dispiace vito non dirò a nessuno che eri qui quando esci cerca di non farti vedere ecco Mi devi un grosso favore. Cosa? Ehi, ragazzo. Leo! Vuoi davere? Che è successo? Ho fatto un patto col tuo amico. Sparisco. Non c'è più niente per me in questa città da quando mia moglie è morta. E avevo comunque pensato di ritirarmi in un bel posto caldo. Bene, per prima cosa usciamo di qui, prima che il tuo amico cambi idea. Buona. Ma io adesso sono rimasto con la cacchio di curiosità di capire dove cavolo è la lavanderia. Cioè, mi ha mandato a vedere la lavanderia. Che è? E basta! Bene, bene. Ma basta. Dov'è la lavanderia, scusate? Ma non c'è la lavanderia. Non esiste la lavanderia. Ma ha detto vai a prendere la roba in lavanderia. Che cacchio è la lavanderia? Cosa sarà il piano di sotto? Non esiste la lavanderia in sta casa, porca miseria. Mi ha detto una cagata. Non c'è. Se vado al piano di sotto, Leo, e non c'è la lavanderia, ti vengo a cercare a casa. Ma siamo già a casa di Leo. Non c'è la lavanderia. Era tutto organizzato. Non dire cagate con sta lavanderia, eh. Dove sei? Leo? Leo, dove cacchio sei? Che mezzo. Leo, vi prendiamo qua? Possiamo prenderlo? Vieni, bello. Ma che fai scherzo. Ok, Vito. Adesso se non ti dispiace portami alla stazione. Mi sono trovato bene in questa città. Ma è tempo di dirle addio. Ci vuoi andare in pigiama? Sì, cazzo. Meglio vivo in pigiama. Che è morto in giacca e cravatta. Se non mi apre il cancello, Leo. Vuoi dire a Frank quello che è successo? Certo che sì. Ma non preoccuparti. Non farò il tuo nome. Avrai già i tuoi bei guai per questa storia. Grazie, Leo. Sai che questa cosa è complicata in fretta. Ma è chiaro, Vito. Che ti aspettate? Fai un giuramento, metti un bel vestito e poi è tutta una bella festa. Carlo è sempre stato un losco bastardo. Anche per quelli con cui lavora. Ho detto per anni a Frank di starci attento. E adesso che farei? Sparisco e lascio che le cose vadano come devono. Salgo sul primo treno per lo Steven. Faccio un paio di telefonate. E poi vado intretto in aeroporto per prendere un volo verso un posto caldo. Domani a quest'ora sarò su una spiaggia a sorseggiare uno dei guai gicca, la frutta con del Joe, l'ombrillino. Una cosa è certa. Se Carlo mi vuole morto, restare qui è come comprarsi un biglietto per l'obbitorio. Non sta lei esagerando? No, intendevo ritirarmi in ogni caso. Quando arriva alla mia età, Vito, tutto questo casino inizia a sembrarti inutile. Frank non cambierà mai. È un rissoso. Ormai da ascolto alle giovane teste calde solo perché gli dicono quello che vuole sentirsi dire. Se intende fare lo sceriffo e mettersi a inseguire Carlo, può farlo anche senza di me. Mi dispiace solo di avere coinvolto te in questo casino. Bene, eccoci qui. Grazie di tutto, Vito. Ma promettimi che non farai più il coglione come hai fatto oggi. Hai rischiato la pelle solo per concedere qualche anno di vita in più a un povero vecchio. Goditi la vacanza, vecchio. Allora, questo sta andando in pigiama. Siamo parcheggiati in mezzo alle piante. Macchina sfasciata. Oh, stai calmo, eh. Vediamo Leo che entra. Va, eh. È andato. Ok. Alla grande proprio, ragazzi. Alla grande. Comunque non so cosa ne pensate voi, ma anche Vito, come Tommy. Troppo buono. Troppo buono, ragazzi. Fran, che ci fai qui? Vito, non so cosa fare, non posso tornare a casa, non voglio vederlo mai più. Oh, che è successo? Vedere chi? Eric. Tuo marito, perché? Beve ed è sempre in giro a divertirsi. Non è che ti picchia? No, ma si vede con qualcuno, sono sicura. Ma lui ti picchia? Rispondi. Ogni tanto. Io lo ammazzo. No, ti prego, non fargli male. Ho pensato che potevi parlarci, a te ti ascolterà. Dov'è? Non lo so. Ha un amico che vive a River Street, di solito è lì che fa. Bene, allora senti, ehi, quando stai un po' meglio, torna a casa. Parlerò con Eric. Se quel bastardo non torna a scusarsi, chiamami, ma non preoccuparti. Ok, Vito, ma non fargli male, ti prego. Non ti preoccupare, lo farò ragionare, ok? Non ti preoccupare, ci penso io. Ok. Trova l'appartamento di Eric su River Street. Oh. Io direi. Quella di prima non era. Eccola qua. Ripariamo. E andiamo. È molto bella, eh. È anche facile da manovrare. Non ti preoccupare, ci penso io, scusa. Eh. Eh, fai scherzi. Sono qua apposta. Eccoci. Ah, ragazzi, andate a vedere anche la serie su Assassin's Creed Valhalla che è iniziata. Iniziamo un altro adventure mentre stiamo per finire questo. Quindi piano piano continuano gli adventure sul canale. Ora, Assassin's Creed Valhalla, ragazzi. Dovrebbe essere qua. Beh, ma io che ne so qual è l'appartamento, scusa. Alice. Jean. Ma che state a fare? Non fate gli sporcaccioni di, eh. Ma che che? Obbriaco. Luigi. Laura. Ma qual è il piano giusto qua? Amanda. Andrew. E non c'è nessun Eric. Che cacchio. Aspetta, però. Non stiamo andando a casa di Eric, effettivamente. Black. Secondo me è giù dove c'è l'ubriaco. Qua. Vediamo il cognome. scetta. Cioè, proviamo qua. Secondo me è qua, perché c'è il bordello, capito? Qua non si apre. Qua non si può andare. Ma che cazzo? Ma bello. Tutto a posto. Gasatissimi. Ciao, ciao a tutti. Chi è il pirla? Nessuno. Ah, eccolo lì. Ma che stanno a fa? Signora, ma lei non dice niente. Ma che stanno a fa? Non voglio sapere cosa sta... Ma ragazzi! Ahia! Ahia! Ma dammi il tempo di iniziare. Cos'è sempre sto vantaggio per voi? Avanti. Pezzo di sardina. Questo è tutto copyright, ragazzi, sto match. Porca miseria. Con la musica di sottofondo. Dovrò togliere tutto, porca miseria. Oh. Bam! Mamma. Ma... D'ora in poi, te ne stai a casa, non ti trovi più, la smetti di bere e fai in modo che si attacca, tanto felice, e se solo non sapete che no, è cazzo questa roba, finisco il lavoro, mi hai capito? Sì, ok gente, la festa è finita, e non ci saranno più feste con questo strasso, mai più, a meno che non vogliate che torni e faccia lo stesso a tutti, capito? Completamente tutta con il copyright ragazzi, questa scena, quindi tranquilli se non sentirete l'audio del gioco, ma è normale perché ho dovuto togliere la musica con il copyright, il problema di mafia appunto è questo, sarà successo due volte in questo mafia 2, però succede purtroppo ragazzi, ci può stare Ok Semplice no? Ancora suo telefono E dov'è? Qua Vito, sono Francesca, Eric è tornato conciato male, hai promesso che non gli facevi niente Avrà fatto a botte, girava con gente davvero brutta Ha chiesto scusa per tutto Vito, ha promesso che sarà buono con me, adesso fa tutto bene, lo lascerai stare, non è vero? Ehi, tutto quello che vuoi, ma se ti fa del male ancora, lo ammazzo Ma ti senti Vito? Io non ti riconosco più Per favore, stammi lontano, hai capito? Stammi lontano e basta E ci può stare, ci può stare, noi facciamoci la nostra bellissima dormita, credo E dormire? Penso di sì Proviamo Da fuoco a tutto quanto, avanti, ora Brucia, stronzo italiano, brucia La mia casa Cazzo Proprio una via di uscita Oh ma perché meno 140 mi? Che cazzo Cosa cacchio è quella roba? Non è che ho perso i soldi che ce l'avevo nell'angolo, eh Ma solo nel cesso posso andare da qua Porca miseria, sono tutti Ma che caspita, non ho armi, sono nudo Ma che, che co Avevo il culo di fuori, ma che cos'è? Com'è la situazione qua? La mia casa Raga, l'unico modo è Cazzo L'unico modo è aggredirli È l'unica L'unico modo è aggredirli Ma chi è che mi spa? Ma l'ha mancato sul serio? Che sta là? Eccolo qua Ce ne sono altri sicuro Devo stare molto attento Perché gli altri sono qua sicuro Che hanno delle armi ingombranti Da quello che ho visto Ok, sta venendo Sono qua però Non C'è qualcun altro? Eccolo qua Oh Sì ma non se la deve prendere con me Ma che forse lo prendono? Cioè non gli fanno niente? Questo non è gameplay, scusate L'hanno arrestato? Forse si è Forse lo hanno preso Vediamo se riesco a prendere una macchina Ma forse lo hanno preso Eh Oddio magari riesco a prendere questa Dai L'ho presa, l'ho presa raga Yeah E quindi loro hanno arrestato Quello lì Che è rimasto là God Ma quindi ho perso tutto Soldi Chi è che ha mandato sta gente? Sì non c'è più il rosso Il pallino rosso Sì sì L'hanno preso Ma chi è che ha mandato sta gente raga? C'è da capire Non mi piace sta cosa Qua qualcuno sa A meno che Non c'entra con la storia della sorella Però mi ha fatto perdere tutti i soldi? Ma davvero? Ma che stiamo a dire? Sono a casa di Joe ragazzi E beh era l'unico posto dove potevo andare Che cavolo è successo? E poi non ho sentito Joe per un bel po' eh Tutto molto strano Ma sono nudo ancora Vabbè ci può stare Che situazione di cacca ragazzi Speriamo che Joe abbia delle spiegazioni In teoria è qua C'è Speriamo ci sia Non dirvi che non sei a casa Magari sta cagando Andiamo Non sarai svenuto eh Forza Sei in bagno Ma che è successo a sta casa? La porta Cazzo Bello vero? Che mica è successo a questo posto? Ora avevate un po' il mio copo Che ne pensi? È davvero Diverso Vero? Pensai che ho fatto tutto io Allora che mica è successo? Tieni Ho tutti i pazzi irlandesi I irlandesi? E che hanno fatto? Hanno provato a farmi fuori Che? E mi hanno bruciato la casa Cazzo Figlia di bottana Che intenzioni hai? Vuoi andare a occuparti degli irlandesi adesso? Certo che sì Ok calma Ti hai fatto un bicchierino E fammi fare un paio di telefonate Guarda nel mio armadio A meno che non puoi fare giustizia in mutande Grazie Pensavo non l'avresti mai detto Beh ragazzi ma Fino a questo punto arrivano sti Sti irlandesi Prendila Mi serve un favore Vabbè qua non si vede niente ragazzi Effettivamente Si vede niente di strano Qui Oh Anche la cucina rosa Ma che caspita è successo a questa casa? Questo posto sì che merita di bruciare È tutto rosa colorato Ah ah è lui Questo spiega tutto Dov'è adesso? Sì sì conosco il posto D'accordo grazie E dove andiamo? Alla Hill of Tara La loro base è Kingston Dai il resto te lo dico in macchina Ma che Ma che vestiti c'hai I giorni? Ma perché? Ha pure sopra rifatto Ma che cazzo? Vabbè Ci può stare Cioè Particolare Molto particolare Tutto quello che è successo In questo episodio Davvero È un episodio devastante Pieno di robe E adesso persino gli irlandesi Wow Forza sale Ma sali dove? Scusa Dov'è la macchina? Non ho capito Ah lì? Bella Bella Ma ti sei rifatto tutto praticamente Ok Notizia recente degli irlandesi No nulla Perché? Gli irlandesi hanno un nuovo capo Mickey Desmond Ci sono un altro paio di tizie Che vogliono il suo posto E così lui Vuol far vedere a tutti Che con lui si fanno grandi affari E questo cosa ha a che fare con me? Brian O'Neill Era il cugino di Desmond C'era da immaginarselo Adesso sarà in quel buco del cazzo Ridarsela con i suoi compari irlandesi Allora andiamo lì e sistemiamoli Esatto Non sono rimaste in tanti Quindi mi sa che possiamo pure spaccare tutto Prenderli di sorpresa Mi piace Coglioni Non riusciarmi la casa Cazzo Bene Siamo lì tra un minuto Ma non capisco ragazzi Va O'Neill Il cugino di O'Neill E sollevalo quel cazzo di pietra dall'acceleratore Che c'è? È quello che Praticamente abbiamo fatto fuori in galera È O'Neill Seguo il veicolo per eccesso di velocità Ma che eccesso di velocità? Quello mi è venuto addosso Sono andata a sbattere Ma che eccesso di velocità? Dovremmo essere Ma che sta sul cazzo il rosso? È riuscita a frenare Forza Andiamo a prendermi Ok ma io non ho le armi Ah sì Sono quelle che Praticamente avevo prima Qua? Te l'ho detto L'hai inseguito Ma l'ho perso Quel cacassotto è scappato Ma lo troverò E quando ci riesco Eri tu quello che scappava Strozo Cazzo Tu Tu ne hai di palle Esatto Oh Ma si può iniziare così? Cioè Una missione si può iniziare così? Te l'ho detto L'hai inseguito Ma l'ho perso Quel cacassotto è scappato Ma lo troverò E quando ci riesco Eri tu quello che scappava Strozo Cazzo Tu Tu ne hai di palle Esatto Ok L'ho preso? Sono il meglio Oh Aspetta Forza Prendiamo questo stronzo Tisina facci Dai andiamo Ma dove andato? Hai imparato nell'essere Guardate Ammattiamolo Epa coglione Ah proprio così A parole ci stiamo prendendo Ci spariamo Facciamo le paroline Qua incrociate Eccolo Ammattiamolo Dove sta quell'altro? Ah è proprio una sfida Del tipo il primo Che si muove E' bellissima sta roba Hai paura Diggielo gioco Andiamo Stronzo Mi sa che mi sono avvicinato Abbastanza per farti più Bello Calma ora Ma sta beve Ma è un pirla Vito comunque Ah no è andato E quindi chi rimane Scusa Joe Che succede Joe Joe C'è qualcuno Ma non sappiamo dov'è È un'altra Ma che è a sto episodio Molto bene Ma Basta Per oggi no Ma non ho capito Chi è che manca Perché Joe Lo vedo abbastanza alterato Ah sta scappando Forza andiamo Joe Porca miseria Porca Dai Che bordello Piripiri 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 Solitario Nella notte Mazzello Incontra In gran paura Ma che mingga fai Dai non era grave Peggio di una donna Oh te Misteriosa È la sua identità È un segreto Che nessuno Dai Ti vengo a prendere Broderino BAM Qua c'è un malato di mece Armato Ricevuto Ma che cosa sta succedendo? Ma che cos'è? Ma che cos'è sta roba? E anche questo è fatto Tutti stronzi È tutto risolto Sì ma continua Ma non avrei più una casa Anguillo Le cose vanno bene Presto avrei il denaro Per prendertene un'altra Eh lo spero proprio Bene Proviamociene a casa Allora per te va bene Se usa il tuo divano Possiamo fare di meglio Ecco Prendi queste chiavi Sono dell'appartamento Di Marti Me ne sto occupando Per conto di sua marcia Nel frattempo Puoi usarlo tu Sì Grazie Amico Non ringraziarmi Si è troppo vecchio Per dormire sul mio divano E poi l'ho appena comprato L'appartamento di Marti A Oyster Bay Ti sente meglio? Non molto Quello non era neanche la metà Di ciò che si meritava Dai Tutta quella roba bruciata Sono solo oggetti Vito Solo oggetti? Era la mia roba Gio Per cosa facciamo Quello che facciamo Per comprare oggetti Vestiti Macchine Femmine Case Adesso ho il culo per terra In quella casa C'era tutto il mio denaro Avevo giurato a me stesso Che non sarei mai più Stato povero Come il mio vecchio Ehi Ok Ho capito Non preoccuparti Penseremo a qualcosa Ti riprenderai presto Per te Il cazzo di bicchiere È sempre mezzo pieno Ragazzi Sto facendo Le proate Per schivare la polizia Andare via in tempo Per non essere Cioè Mentre loro parlano E vi faccio sentire i dialoghi Sta succedendo di tutto Cazzo Guido È come mia nonna Lo sai Ok Ci vediamo in giro Suppongo A presto amico Mi dispiace Per stanotte Devo dire che è andata benissimo Con la macchina Ragazzi Assoluta La vedo bene la macchina La vedo veramente bene Bene ragazzi Ho lasciato un po' la macchina Tanto ho visto che Era tutta sfasciata E comunque La zona era abbastanza vicina Quindi ho detto Me la faccio un po' a piedi E devo dire che il gioco È veramente figo Veramente Veramente Figo Eccoci qua arrivati Questa è la casa di Marty Che probabilmente Che strano È questa Beh ma è tutta da rifare Sarà questa Ma è tutta da rifare Praticamente Dov'è l'altro ingresso Qua c'è un'edicola Ci deve essere un altro ingresso Beh il garage c'è qua dietro Vediamo un po' Che minchia di porcile Dio quanto vorrei soldi Per andare in albergo Eh vabbè dai Meglio di niente No Meglio di niente Marta mi dai prividi Eh lo so Capitolo 12 Raga però che episodio è stato questo Io direi di fermarci qui Perché veramente è stato un episodio Devastante Appartamento di Marty Perché noi siamo adesso La mia casa Procetta assieme a tu Non voglio spoilerare Nulla ragazzi Non voglio spoilerare nulla Noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi Per continuare la storia È successo un casino Ne sono consapevole Però è anche giusto così alla fine No cioè nel senso Prima o poi si deve arrivare a un gran casino no Non so se Come finirà poi la storia Come andrà avanti adesso Però lui è veramente nei guai Secondo me Inizia a diventare una persona importante Per questo viene accerchiato parecchio Il suo nome si conosce È rischioso per lui È rischioso Però nello stesso tempo Credo che Gio si sia ripreso abbastanza bene Si è rifatto completamente la casa Noi ora abitiamo proprio a casa del povero Marty Non si sta capendo più nulla Le famiglie si rivoltano Una contro l'altra È un bel casino E bisognerà capire Che cavolo succederà Nei prossimi episodi Io vi saluto ragazzi Un abbraccio Un bacione Ci vediamo nel prossimo video Bella Grazie a tutti ! Grazie a tutti.